belle donne buongiorno e benvenute in questo nuovo video oggi inauguriamo una mini serie di video dedicate ai regali di natale credo saranno tre video forse quattro ma del quarto non sono ancora sicura comunque sicuri sono tre video e vorrei così intitolare questa mini serie regali di natale che abbiano un senso questo perché perché comunque io continuo e ho intenzione di continuare a muovermi nella direzione del comprare meno comprare meglio e non voglio diciamo così distaccarmi dalla realtà che noi tutti viviamo e questa è una realtà questo è un periodo in cui c'è bisogno di dare grande razionalità ai nostri acquisti quindi io vorrei proprio darvi qualche piccolo suggerimento su dei regali di natale che abbiano un senso un senso per voi nel caso siano le cose che vorreste ricevere è un senso naturalmente per i vostri cari per i vostri amici per tutti quelli a cui farete appunto dei regali di natale naturalmente saranno comunque dei suggerimenti in ambito beauty e fashion per cui se siete orientate a voler ricevere o a voler fare regali in questo ambito continuate a guardare questo video e guardate anche i prossimi oggi vorrei parlarvi espressamente di profumi il profumo è un regalo molto difficile perché sappiamo bene che è una cosa molto personale il gusto della persona può essere molto diverso dal nostro ma soprattutto l'effetto che un profumo fa su una persona dipende un po da come reagisce la pelle a quella determinata fragranza e a quella determinata composizione quindi diciamo che io non ho mai regalato profumi nella mia vita a meno che non mi venissero espressamente richiesti e io sapessi già che cosa comprare perché appunto non volevo rischiare di regalare qualcosa che poi non fosse gradito al destinatario alla destinataria va bene e allora come mai vi parlo di profumi ve ne parlo perché sono riuscita a trovare un'azienda che ha una gamma di prodotti che permette di non sbagliare ed è anche un'azienda che produce dei profumi molto molto particolari io ne sono rimasta veramente affascinata ho già fatto degli acquisti ho già fatto anche dei regali e quindi oggi voglio condividere con voi questa mia esperienza perché magari potrebbe appunto esservi utile questa azienda italiana si chiama lpdo e ha sede in provincia di napoli le fragranze che produce non sono i classici equivalenti cioè fragranze che somigliano a e facciamo seguire qualunque nome di profumo conosciuto blasonato ispirato a uno stilista particolare eccetera no sono dei profumi originali creati da loro la particolarità che mi ha veramente sconvolto di questi profumi è la persistenza e l'intensità io per esempio ho il problema della persistenza nel senso che qualunque profumo anche quelli che amo più di tutti su di me dopo un'oretta sparisce la mia pelle se lo mangia e invece queste fragranze qua io vedo che su di me hanno una durata molto lunga e non solo man mano che passano le ore con il calore del corpo della pelle il profumo viene costantemente rilasciato cioè rimane proprio persistente io lo sento sapete che è difficile sentire un profumo su di sé soprattutto se si è abituati a quel profumo ecco io questi continuo a sentirli per molte ore e la gamma è molto interessante perché ci sono più di 20 tipologie di fragranza molto diverse tra di loro ma non solo dal punto di vista della scelta lpdo dà anche un'ottima possibilità quando volete fare un regalo perché potete acquistare il mini bundle vi metto qui la foto perché io quelli che ho acquistato li ho già regalati sono delle confezioni in cui trovate tutte e 20 le fragranze proposte in gamma in mini confezioni in mini sample che trovate appunto ognuno nel proprio cartoncino con il nome la descrizione e quindi potete decidere di regalare questi 20 mini taglie di profumo magari a un'amica che così può provarle tutte valutare se le piacciono se le stanno bene sulla pelle eccetera e successivamente fare anche appunto l'acquisto di quelle che eventualmente dovessero piacerle nelle confezioni più grandi tenete presente inoltre che insieme al mini bundle vi arriva anche un buono sconto del 20 per cento che si può utilizzare entro 30 giorni quindi avete praticamente 30 giorni di tempo per provare tutte tutti i sample e quindi se decidete di acquistarne uno lo acquistate scontato come vi dicevo io mi sono trovata benissimo per il discorso persistenza perché su di me questi profumi sono molto persistenti e in particolare ne ho trovati due che mi sono piaciuti tantissimo ve li faccio vedere sia nella confezione chiusa perché appunto volevo farvi vedere anche appunto come si presentano questo è delir rouge ed è un profumo estremamente intenso e dolce veramente di quelli invernali un po da pelliccia come si diceva una volta però a me piace tantissimo e è molto molto particolare vi devono piacere appunto i profumi con questa caratteristica e un altro che adoro e che uso tantissimo è royal tiaree e ve lo faccio vedere appunto nella bottiglia perché le bottiglie sono devo dire particolarmente belle hanno un gusto un po retro un po da signora cosa che a me piace molto sono spray si possono tranquillamente portare in viaggio perché è una confezione sicura io ci metto un po di scotch quando me lo porto dietro ma così perché sono io che sono un po paranoica però vi posso assicurare che se lo mettete dentro il beauty e lo incastrate bene non succede assolutamente niente non ha perdite né nulla e appunto royal tiaree fare un video come si deve no è paola va bene comunque royal tiaree è un'altra delle fragranze che preferisco è già la seconda volta che la compro è più orientale è più speziata magari un po più estiva rispetto a delle rouge ma è veramente veramente intensa e persistente e anche questa secondo me è fantastica cosa succede quando escono delle fragranze nuove perché mi è capitato anche questo è più di un anno che l'utilizzo nel frattempo sono uscite delle fragranze nuove io le volevo provare però sinceramente dicevo non mi sembra una buona idea che io mi ricompro altre 20 mini taglie che poi diventano 24 25 quello che è e gli altri li ho già provati non mi piacciono quelli che mi piacciono li conosco già solo per sentire queste 45 fragranze nuove e su questo anche qui sono stati molto bravi perché nel sito trovate anche il mini bundle delle nuove fragranze quindi se avete già provato le altre volete sentire solo quelle nuove potete farlo anche questo un prezzo molto interessante che mi sembra sia di aggiri fra i sette e gli otto euro anche questo bundle non ce l'ho più perché ho regalato anche quello e vi metto qui la foto ultimo tip all'interno della gamma trovate anche delle fragranze così dal mood piuttosto maschile o comunque universali una di queste quella che mi piace di più al momento è soul si ed è appunto una fragranza ispirata al profumo del mare con un fondo leggermente salato molto particolare non necessariamente estiva secondo me e quindi diciamo che riusciamo a coprire una vasta gamma di pubblico sono molto inclusivi come profumi bene belle donne credo di avervi detto tutto io di solito acquisto il 30 millilitri e ne acquisto due diverse così posso divertirmi a cambiare esiste anche la confezione più grande da 50 millilitri quindi insomma potete fare un po quello che ritenete più opportuno i prezzi sono decisamente ottimi e se volete divertirvi a scoprire tutte le varie fragranze provare il bundle eccetera io vi lascio qui sotto il link nell'info box siamo ai saluti finali spero che questo video vi sia stato utile di avervi fatto compagnia di avervi dato un piccolo prezioso consiglio per i vostri regali di natale che siano per altri o autoregali nel caso non vi siate ancora iscritti al canale potete recuperare adesso cliccate qui su questa foto e se volete scorrere un po di video in ambito beauty potete farlo cliccando sulla foto in alto dove trovate la playlist beauty noi ci vediamo sempre qui sul canale al prossimo video e nel frattempo un bacione